Le navi ribelli stanno per colpire i nostri camminatori Occhio ai razzi e ricerca Quella principessa ha finito di causarci problemi Il camminatore deve essere protetto, è rimasto senza scudi Gli scudi si riattiveranno a momento Imperatore, è soddisfatto dei tuoi progressi Lasciano un attacco orbitale Uplink e livelli individuati, avanzare Grazie a tutti Grazie a tutti